Sconfitta all'ultimo secondo per il Zora, battuto al Tomei 1-2 dallo United Riccione. Mister Stefano Campolo recupera Crispino in porta, oltre a Gemini e Gubelli, rientrati dal turno di squalifica con il difensore in campo dal primo minuto. Dopo il minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva, il Zora parte molto bene e al decimo una sponda di Didio innesca Tribelli che avanza. In trenare tira, ma il portiere ospite Rossi controlla senza problemi. Al ventiduesimo il vantaggio bianco-nero, assist di Digilio per l'inserimento di Girillo che stoppa di petto e trafigge Rossi per l'1-0. Al venticinquesimo ancora Zora pericoloso, sempre sull'asse di Giglio e Girillo. I romagnoli insistono e al trentottesimo trovano il pari con Maio, che insacca in rete dopo un batte e ribatti in area sorana sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Si va a riposo sull'1-1. Nella ripresa il Zora parte ancora bene, ma dopo il buon avvio la partita si spegne. Al cinquantesimo arriva la beffa. La difesa sorana regala un calcio di punizione sulla fascia destra allo United. Caponi pennella in mezzo all'area per Sico che insacca al volo. Il gol vittoria finisce 1-2 per lo United Ricciole.